Stasera in TV, Canale 5 per la Vigilia di Natale ha confezionato un regalo speciale per i telespettatori, il concerto del Volo a Gerusalemme. Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, è protagonista di un esclusivo live registrato presso la suggestiva atmosfera della Terra Santa. È un luogo dove si incontrano religioni, culture e lingue differenti, ha spiegato Gianluca Ginoble, ti accorgi di come le persone sono così diverse nel dedicare la loro vita alla spiritualità. Il loro palco si troverà esattamente sotto la Torre di Davide, alle porte della parte storica della città di Gerusalemme, luogo dove si tengono grandi eventi di forte importanza artistica e culturale. Sarà un momento magico e da non perdere. Io sono Babbo Natale, stasera in TV su Rai 1 l'ultimo regalo di Gigi Proietti prima di morire. Cast e trama del film con Marco Giallini Il Volo Natale a Gerusalemme, stasera in TV su Canale 5, il concerto de Il Volo Natale a Gerusalemme, verrà trasmesso in esclusiva su Canale 5, a partire dalle 21. 40. Ad accompagnare il trio di tenori, lanciato da, Ti lascio una canzone, è l'orchestra filarmonica della Franciacorta. Un concerto natalizio con in scaletta i tradizionali brani del Natale senza dimenticare alcuni classici amati e cantanti in tutto il mondo come, Happy Xmas, War is Over, di John Lennon e Yoko Ono, che il trio ha registrato come regalo per i fan. Madame Indagata, false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green Pass. Sanremo 2023 in bilico per la cantante? La scaletta un concerto davvero unico nel suo genere. I tre componenti del Volo si esibiranno in Terra Santa. La scaletta dell'evento non è ancora stata diffusa, ma quello possiamo garantirvi, è che il trio interpreterà i brani Natale più belli di sempre. Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto, non sono nuovi alle canzoni natalizie. Nove anni fa, infatti, il Volo pubblicò Buon Natale The Christmas Album, che raccoglie i grandi classici del Natale in lingua italiana, inglese e tedesca. Siamo certi che la serata attingerà molto da quel loro grande successo. Il Natale è a ritmo di samba con Sior Mircaccio. La differenza tra leggerezza e superficialità, un vero e proprio regalo di Natale al pubblico di Canale 5, che potrà vivere insieme ai tre tenori un'esperienza incredibile che tocca il cuore di tutti, nel segno della musica del Volo.